Sia lodato Gesù Cristo Ciao amici e amiche di questa stupenda comunità del Vangelo Eccoci qui al Vangelo di oggi con fra Stefano Il Vangelo del giorno mercoledì 1 maggio San Giuseppe lavoratore e festa dei lavoratori Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! Preghiamo O Dio che hai chiamato l'uomo a cooperare con il lavoro al disegno della tua creazione, fa che per l'esempio e l'intercessione di San Giuseppe siamo fedeli ai compiti che ci affidi e riceviamo la ricompensa che ci prometti. Per Cristo nostro Signore. Amen! Il Signore sia con voi Dal Vangelo secondo Matteo Gloria a te o Signore In quel tempo, Gesù, venuto nella sua patria, insegnava nelle loro sinagoga e la gente rimaneva stupita e diceva «Da dove gli vengono questa sapienza e i prodigi? Non è costui il figlio del falegname? E sua madre non si chiama Maria? E i suoi fratelli Giacomo, Giuseppe e Simone? Giuda? E le sue sorelle non stanno tutte da noi? Dove gli vengono allora tutte queste cose? Ed era per loro motivo di scandalo. Ma Gesù disse loro «Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria e in casa sua». E lì, a causa della loro incredulità, non fece molti prodigi». Parola del Signore Lode a te o Cristo Ogni tanto ci ricordiamo anche di San Giuseppe, lo sposo di Santa Maria, la mamma di Gesù. Ed è un bene ricordarci di lui, perché è un santo straordinario, a cui facciamo bene ad affidarci, chiedendo la sua intercessione. Non sappiamo molte cose della sua vita, infatti il Vangelo ci parla di lui solo durante l'infanzia di Gesù e poi scompare dalla scena. Ma quel poco che ci viene detto delinea i tratti di una persona di fede, forte, saggia, giusta, che si prende cura della famiglia in varie circostanze. Innanzitutto difende Maria quando vede che la sua vita è minacciata in quanto ha concepito un figlio per opera dello Spirito Santo. E la maggior parte delle persone non è disposta ad ammettere che Dio possa entrare a far parte della nostra vita in modo così determinante. Ma Giuseppe crede e difende Maria. E poi l'accompagna a Betlemme per il censimento, con creatività trova un rifugio dove poi nascerà Gesù. E poi dopo aver adempiuto tutti i riti religiosi, sapendo che la famiglia era minacciata, fugge in Egitto per portarli in salvo e lavora per provvedere alla famiglia e trasmette anche le sue conoscenze a Gesù e insieme a Gesù fanno i falegnami. Poi non si sa più niente. Ma proviamo a pensare a noi stessi. Che cosa si saprà di noi dopo la nostra morte? Forse niente. Ma siccome Giuseppe siamo riusciti a vivere nella rettitudine, dedicandoci con amore, anche con fatica, per il bene delle persone che ci stanno accanto, che cosa vogliamo di più? Non è forse questo vivere la vita in pienezza? Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. LA BENEDIZIONE PER TE E PER LE PERSONE CHE PORTI NEL CUORE Il Signore sia con voi Vi benedica Dio onnipotente Padre Figlio e Spirito Santo. Amen! E manteniamoci sempre uniti non solo nell'ascolto del Vangelo, ma anche nella preghiera, sostenendoci a vicenda. Il Signore ti custodisca nella pace. Ciao ciao e Abbi cura di te! E Abbi è andato al cancello che ci sono altri cani oggi, è là in compagnia. Grazie a tutti!